ciao a tutti sono il vostro samaritano eduor mariani ciao a tutti ragazzi questo è il secondo vlog dietro al telecamera c'è Luca Ruffini Ventura che sponsorizzerà il canale guardate tutti e due i nostri canali Luca Ruffini Ventura e Edoardo Mariani commentate e guardate i nostri video vedetevi il blog allora nella serie Ratchcraft è andata perduta minecraft non era una specie di inizio per il server ma ce l'hanno rifatta a casa poi ehm ehm Edoardo il server è stato ricambiato risentato e cambiato tutto per motivi lag quindi la serie è stata chiusa chiusa e farò una nuova serie minecraft sia single player o FTP cioè FAP THE BEST o FAP THE BEST farebbe ehm multiverse single player un mondo un single player Minecraft normale 1.5.2 e una nuova serie Minecraft multi ehm ehm server un server associati tanto Ratchcraft o Electroniccraft io insammarmi per un film ehm ieri doveva uscire un video con Nike 99 ma non è possibile uscire per motivi di di computer allora ehm ehm connessione per motivi di connessione sì infatti ora non spesso allora ehm visto i 320 passi di soluzioni e 11 iscritti sembrano già un buon traguardo ehm vorrei fare un video di graziamento pare che te sono pochi ma per me anche per il mio amico sono tanti i suoi iscritti ehm però solo 4 eh però ecco inizio e quasi 100 di soluzioni come inizio ero perchè è più esperto di me quindi ehm stavo dicendo ehm stai a parlare dei ringraziamenti ah sì ho già bisogno di qualcuno che ci sono come il mare per due anni e sto parlando sia il dottore inizio di percorrere il mio passato diciamo allora ragazzi allora ho un mio ringraziamento con minecraft e su minecraft eee la cosa tutta overpower TV, molto faga, molto over power e qui c'è uno video, aspettate, c'è una persona che vuole salutare. Non so se chiamarla persona, animale o alieno, ma è tornata. O cosa? È tornata. La tarta lunga! A tutti! Ciao!